Però Mario ti chiedo, tu vorresti nella tua squadra Donnarumma o Magnano? Ma, io ti direi Donnarumma sinceramente, dico la verità, però se mi dai del Magnano sono felice lo stesso. La domanda che voglio fare io a Viviano, Vivio, che Donnarumma sia forte, insomma, non scopre nessuno, ma Donnarumma è migliorato in questi anni? Gli veniva imputato che parava con i piedi larghi, no? Sai tutta quella storia. Sai che sono curioso cos'hai da dire che puoi sentire che da lì su Donnarumma, non ho mai sentito questa domanda. Allora, prima ti dico perché a me piace tantissimo analizzare i dati, il primo campionato di Magnano lo fa all'età, il primo campionato da, diciamo, titolare di Magnano lo fa all'età che attualmente non è rimasto. Credo che Donnarumma abbia più partite nei professionisti di di Magnano, molto probabilmente. E quindi quello è già un dato, quindi non stiamo nemmeno parlando della maturazione totale del portiere che come sappiamo avviene sempre 25, 26, 27 anni.